buonasera amici della lega calcio universitaria terza partita di serata fa molto freddo qui parco degli olmi si affrontano oggi la squadra degli arroganti contro il pari san jernar ecco giocatori inquadrati in questo istante la nostra regia squadre tutte da scoprire vedremo un po quali saranno i talenti che spiccheranno maggiormente ci aspettano sicuramente tante emozioni qui che vi parla vostro matteo zorloni bocca al lupo entrambe le squadre ma partita repalam grande dribbling sulla sinistra la puntazza poi e c'è il vantaggio di dinello dopo solo tre minuti la sblocca l'arroganti con grande prepotenza 1 a 0 pronta la battuta sebastiano 30 in porta deviato sarà calcio d'angolo lanza il pari san jernar conclusione da fuori di coppola che impegna la grandissima portiera avversario parla però respinta coppola prova a girarsi coppola coppola voleva il jolly messa battuta l'inallo cerca il compagno pallone che arriva tra i piedi di repalma che trova un gol clamoroso 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 errore mezz'ora del portiere pensavamo che il pallone fosse già nelle proprie mani quindi con un pizzico di fortuna anche l'arroganti trova il 2 a 0 ultimi istanti del primo tempo può provare il pari san jennaro sfonda coppola sul lato di sinistra contatto sospetto si gioca pala lunga cercare coppola in testa gran gol del numero 10 maglia gialla grandissimo colpo di testa lui che non è neanche uno dei più alti in campo riesce comunque a esprimere meglio il proprio talento e accorcia le distanze coppola direttamente in porta che occasione sprecata non c'è stata deviazione fatto dobbiamo per il tempo che c'è sul palla centrale e c'è il gol improvviso dell'arroganti con un'azione improvvisata sulla di sinistra polla e mezzo, tocca sottoporta di Saracino 3 a 1 stabilite distanze di due gol tra le due squadre tiro da fuori tiro da fuori traversa piena Gallo sfiora il 4 a 1 grande chance questa lanza ancora Laro Gandhi sulla fascia sinistra il tocco centrale per Dinanno gran gol ancora Dinallo un grandissimo gol del numero 9 dell'Aro Gandhi grandissimo gol di un grandissimo giocatore in super serata basta con questi gol piano palla fuori questo è un euro goal questo è un euro goal sta esplodendo Laro Gandhi sta esplodendo grandissimo tiro di Der Re ancora Laro Gandhi che prova comunque a continuare a costruire buone occasioni da gol e conquista palla Laro Gandhi ancora Dinallo che sfiora l'ennesimo gol della serata questa volta però il pallone non finisce in rete facendo pallare conquistata per il Paris Saint-Gennaro corso e distanze con il numero 9 Sebastiano prova la gioia personale quindi non mancano poco più di 10 minuti alla fine della partita avanza ancora per il San Gennaro sul lato di destra calcio di rigore calcio di rigore per la scuola in maglia gialla calcio di rigore battuto ora grandissima parata grandissima parata di Broglia perché se Sebastiano non aveva angolata più di tanto però grande botta grande respinta con le gambe l'estremo difensore dell'Arroganti pronto al calcio di punizione Paris Saint-Gennaro grandissima parata ancora una volta Broglia non si fa superare calcio di punizione direttamente in porta si distende il portiere che si sta casando parata dopo parata palla intercettata diventa buona per Coppola che scarica per il compagno piazzato Sebastiano accorcia ancora le distanze Paris Saint-Gennaro che piano piano sta diminuendo lo svantaggio anche se restano ancora tanti gol da azzerare tra virgolette che è solo il triplice fischio arriva ora triplice fischio termina quindi qui l'incontro setra Mario Gandhi che si impone di prepotenza